Indice, i vantaggi di una soluzione versatile il gres porcellaneato effetto cemento è resistente pulizia e manutenzione sono semplificate. Il cemento è un materiale che viene spesso utilizzato dagli interior designer per conferire allo spazio quel tocco contemporaneo e chic che caratterizza lo stile industriale. Una palette cromatica che gioca con il grigio, il bianco e tocchi di nero si fonde con l'uso di materiali come la pelle o il legno. Per realizzare la propria casa in perfetto industrial style non può mancare una superficie in cemento. La texture materica, grintosa e decisa, crea immediatamente il giusto mod. Esiste una soluzione alternativa per ricreare la bellezza di un pavimento in cemento con una texture e un colore dissimile dall'originale. Il gres porcellaneato effetto cemento è una soluzione ampiamente usata nei progetti di ristrutturazione in stile industriale. La sua versatilità e il suo design lo rendono una scelta ottimale per rinnovare gli ambienti di tutta la casa in chiave urbanistica. Ma quali sono le caratteristiche del pavimento effetto cemento? Quali sono i vantaggi legati all'uso di questo materiale per le superfici? Poliedrico, resistente e di tendenza, è il momento di scoprire tutto ciò che riguarda le pavimentazioni in gres porcellaneato e sulla. Loro declinazione effetto cemento I vantaggi di una soluzione versatile Come prima caratteristica abbiamo citato la versatilità del gres porcellaneato effetto cemento. Questa scelta è tutt'altro che casuale. Il gres è perfetto sia per decorare in modo elegante gli interni sia per pavimentare gli esterni. Un solo materiale, numerosi usi. Se la superficie dalla texture cementizia è perfetta per la casa contemporanea, è altrettanto funzionale per l'ambiente outdoor. Per non parlare degli ambienti commerciali e degli uffici, l'effetto cemento si presta per rivestire diversi tipi di ambientazioni. La texture imperfetta e materica dona un colpo d'occhio incredibile. Anche dal punto di vista puramente stilistico la versatilità è una dote che possiamo attribuire facilmente ad una superficie effetto cemento. Anche se presenta una finitura materica caratteristica, il cemento può contribuire a creare eleganti ambienti rilassanti se accostato. Ha colori chiari e a legno in puro scandinavian style. Ma non solo. Si sposa bene con le abitazioni da look vintage nelle dimore più eclettiche. Avete paura che il pavimento in gres non riproduca fedelmente quella sensazione unica data da cemento? La tecnologia ha fatto numerosi passi in avanti. I metodi di stampa consentono di creare degli effetti grafici sorprendenti e realistici. Il gres porcellanato effetto cemento è resistente. Perché il gres è riuscito a conquistare le nostre case. Il merito va alle sue eccellenti caratteristiche tecniche. Questo materiale è resistente agli urti e alle abrasioni. Un elemento da tenere in considerazione soprattutto quando si parla di superficie ad elevato calpestio. Non teme neanche l'azione dell'acqua. Il grado di porosità è basso e ciò non permette alla superficie di assorbire i liquidi. Il coefficiente di assorbimento dell'acqua è sempre meno dello 0,5%. Il gres vanta ottime prestazioni anche nei confronti degli sbalzi di temperatura. È un materiale antigelivo e per questo può essere impiegato anche per la pavimentazione outdoor. Urti, calpestio, prodotti chimici e agenti atmosferici difficilmente riescono a scalfire la bellezza di un pavimento in gres porcellanato. Due punti la durata nel tempo è un altro fattore da tenere ben presente. Specie se si decide di investire in una soluzione che sia realmente conveniente. Pulizia e manutenzione sono semplificate. Ogni superficie ha bisogno delle giuste attenzioni per mantenere inalterate nel tempo le sue caratteristiche. Il pavimento in gres porcellanato effetto cemento presenta una manutenzione molto semplice. La struttura del gres fa sì che la superficie non assorba liquidi e lo sporco. Un materiale compatto che si pulisce in modo veloce e pratico. Un plus è rilevante per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici. Commenta questo approfondimento. Grazie. 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 Grazie.